Ciao ragazzi, tre facili consigli su come idratarsi durante la nostra corsa, durante la nostra gara, durante la nostra maratona. Primo, idratarsi prima della gara, fino a 30 minuti prima della nostra competizione, partendo dal pasto pre-gara, cercare di idratarsi senza esagerare. Una borraccia d'acqua, quindi 500 ml di acqua, saranno sufficienti per partire ben idratati. Secondo consiglio, nella fase durante cerchiamo di bere il più possibile tutte le volte che abbiamo la possibilità. Sfruttiamo i ristori che ci possono essere molto di aiuto alternando magari l'acqua ai sali minerali che però dobbiamo aver provato. Terzo consiglio, nella fase dopo la competizione dobbiamo recuperare tutti i liquidi persi e spesi con il nostro sudore durante la nostra competizione. Quindi, sì, acqua, ma anche, perché no, bevande e a volte anche quelle che più ci aggradano. Ciao e al prossimo video!